Ciao, sono Daniele Vigo, sono uno dei formatori del Fab Lab di Fondazione Mondigitale e oggi è il primo incontro sul progetto Holomakers che si svolgerà da qui fino a giugno e che tratterà principalmente formazione ai ragazzi sulle nuove tecnologie ma soprattutto su gli ologrammi e come questi possono essere realizzati con dei piccoli strumenti che sono stati creati nel laboratorio a Barsalia durante i primi incontri che abbiamo fatto con Lino durante l'università e oggi durante questo primo incontro abbiamo cominciato parlando con i ragazzi su cosa era per loro un ologramma, quindi cercare di capire le conoscenze basi che hanno loro sui ologrammi ovviamente sono tutte conoscenze un po' fantascientifiche però abbiamo avuto modo di chiacchierare, di confrontarci e grazie a questo parlare, a questo modo di confrontarci stiamo ora realizzando delle piccole scansioni 3D della parte superiore del corpo, principalmente della faccia che poi andremo a stampare e infine a realizzare un vero e proprio ologramma della faccia dei diversi ragazzi grazie a tutti grazie a tutti